Sono andato via perché avevamo idee molto diverse. Molto bene. Mi dica del merci. Ad essere onesto, non ritengo che la Schaeffer mi abbia dato una chance. Ovviamente no, è stato lì tre settimane. Cos'è accaduto? Ho salvato la vita a un paziente. Di solito non è motivo di licenziamento. Lei le ha parlato? Sì. Allora perché mi chiede cos'è accaduto? Il suo curriculum è eccellente. Mi sentivo in dovere di ascoltare quello che lei aveva da dire. Che cosa le ha detto? Che non si è attenuto alle procedure dell'ospedale. È quello che è accaduto. Non posso aggiungere altro. Potrebbe dirmi che era intorto. Sembra che non si sia allontanato da House abbastanza in fretta.